Siamo della vittoria di Segrati con Cantù 3-7-1 con Riccardo Pinelli che è stato uno dei protagonisti perché è entrato nel quarto set, ha giocato tutto il quarto set, quando la partita si è fatta difficile e grazie anche al suo contributo è stata risolta. Riccardo, un po' di fatica oggi? Sì, un po' di fatica, vediamo da due settimane non facilissime per problemi fisici, infortuni, assenze dei nazionali e ce l'abbiamo fatta con un po' di fatica ma siamo contentissimi. Insomma, sul 2-0-7-1 nel terzo set, anche io in cronaca ho detto che siamo pronti per andare a casa, e invece? La pallavolo è così, cagli un attimo e l'avversario è sempre lì pronto e ti frega. Siamo stati bravi a reggire nel quarto set, non è sempre facile, ma dobbiamo lavorare su questi cali perché con certe squadre questi cali non possiamo permetterceli. Il tuo quarto set, Ricci ti ha dato fiducia, la partita non stava andando bene, eravate sotto anche nel quarto, sei entrato tu, hai fatto bene, è una buona prova la tua? Penso che questo sia il concetto di squadra. Quando c'è un compagno che è in difficoltà per problemi fisici oppure solo di giornata no, il mio contributo è stato fondamentale e sono contentissimo perché noi possiamo dire che siamo una squadra. Quando c'è qualcuno in difficoltà c'è subito uno pronto a dare il suo contributo. E adesso, domenica prossima, c'è il match clou, almeno di questo girone d'andata. Sì, ci arriviamo pronti sicuramente, recupereremo un po' dai problemi fisici, i nazionali, speriamo di poterci allenare più giorni possibili con loro in settimana e come ogni giorno dall'inizio dell'anno a oggi daremo il tutto in ogni allenamento.